Musica Ah ancora ciao a tutti ragazzi e ragazze Io sono Ciccomano il Diablo e ben ritornati in questo nuovissimo video di StumbleGuys Oggi come avrete letto dal titolo e come vedete là qua Ho 100 gemme Praticamente come avrete letto dal titolo Ufficialmente il mio team su StumbleGuys Se volete potete fare il provino E io farò il video e voi farete parte del mio team Vinceremo tutte le partite Però ditemi nei commenti quante corone avete Che potrete fare il team Potete fare un video Poi lo potrete mandare nel vostro canale Youtube Vediamo se possiamo fare il provino per il team E vediamo se puoi and... se puoi... se si può... come si chiama? Se puoi... non so parlare l'italiano ovviamente Perché è strana sta cosa Cioè io sono italiano però faccio fatica a parlare italiano Com'è possibile? Vabbè comunque... Oggi... cambiamo il nome Ok vedi 100 gemme Il te... però il... il team volevo chiamarlo N.C. come noi con voi con te Come il nostro Però... Pazzurog l'ha voluto chiamare come il mio team ufficiale Perché io ero il capo Youtuber Secondo lui perché ho creato i canali Youtube Cioè ho avuto le idee Ehm... vabbè Termi... chick C... come cicomalo Barra Dov'è la barra? Ok All... no Ecco John 333 Trattiro basso Ehm... chick Ok Fatto No Adesso non c'ho più le gemme Ehm... Ehm... vabbè però ho cambiato il nome Ok ragazzi se volete potete fare il pro... il provino Facciamo un video dove facciamo un provino Magari Ehm... ho videochiamata Ehm... vabbè Però... ehm... in questo video voglio fare una partita perché E' da un po' che non le faccio Ovviamente il suono è sempre bello Ed ecco qua Ah comunque è uscita un'altra nuova skin Supergirl Supergirl Quella... ehm... la femmina di Superguy Ma perché stanno uscendo tutte ste skin? In realtà Ce ne sono quattro uscite Qua... in realtà era uscita anche quello dello zombie un po' prima che ne erano cinque Cioè raga... per Halloween stanno uscendo tantissime skin Non me l'aspettavo In effetti... ero curioso della novità di Halloween Cioè hanno... hanno creato già un botto di skin Ehm... vabbè però Ehm... ma come facciamo? La piattaforma si deve abbassare un attimo La piattaforma si deve abbass... Ok Ok Io non so perché però Io Stumbleguise ci gioco da luglio Però sono comunque scarso Cioè a volte ero bravo Cioè una volta sono diventato bravo Forse perché parlo Dopo mi eccito e dopo perdo E vabbè Ehm... aspettiamo Io non voglio fare il trick E poi non lo so fare neanche Secondo me veniamo eliminati Vediamo Vediamo... vediamo... vediamo eliminati Oh 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 Possiamo... posso ancora qualificarmi? Sì mi qualifico con que? No? Sta laggando Signori sta laggando No 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 E vedete che perdevo Che vi avevo detto raga? Che vi avevo detto? Però io non mi arrendo Io voglio fare... Io voglio... capito? Voglio vincere Voglio... come si dice Voglio almeno qualificarmi Bot bash in video Una volta l'ho fatta Che ne so la nuova mappa Che ne so Comunque Tile fall Ehm... E ma... qua... E ma qua a volte... Me la cavo... No! Non me la cavo Infatti mi devo stare zitto E devo dire Io perdo Così almeno mi qualifico Vediamo Mi posso qualificare? No? No! No! Fanculo! Però... Però io Mi voglio qualific... Almeno... L'ultima partita E poi... Basta Chiudiamo il video Ehm... Scrivetelo nei commenti Quante corone avete Se volete fare il provino Se non volete Essere ripresi Però volete fare il provino E così e basta Ehm... Dopo dico In video che Ehm... Chi abbiamo nel team Però non pronuncio il nome Ehm... Ehm... Vabbè... Comunque Ehm... Ok... Adesso ci qualifichiamo Sì... E uno mi ha dato un calcio E vabbè... Però so... È normale dare i calci A stumble guys È anche divertente per alcuni Ok... Ragala vedete questa schiena dello scheletro rosso? Questa era la mia prima leggendaria Sì però se cado Ma che è? Ma cos'è? Oggi mi qualifico Mi devo qualificare per forza Ma cos'è? Ma cos'è? Ma per... Ma... Io vanno... Io... Io non lo so Io non lo... No... No 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 Io mi qualifico Io mi devo qualificare per forza Almeno una volta Mi devo qualificare almeno una volta Ma cos'è? Già che mi lag... Mi devo stare zitto Devo... Mi devo concentrare Standomi zitto Allora non parlo Non parlerò mai Quindi stare zitto Tra 3 2 1 0 Ciao Ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. C'è la vita... Così non è bella la vita. Se perdiamo su StumbleGuys la vita è una merda. Ma che è? Non si può... Se noi perdiamo su StumbleGuys non è bella la vita. Ma se giochiamo da luglio dobbiamo qualificarsi. Altrimenti la vita non è bella. Sembra una presa per il culo. Perché se noi non vinciamo e giochiamo da luglio. Quindi da tipo tre mesi. E non si può giocare. Com'è possibile? Che da quasi quattro mesi non ci qualifichiamo. Anche quando parliamo. Quando dobbiamo giocare da trent'anni allora. E com'è possibile? Non è un gioco di logica. Vedi mi qualifico. E mi devo qualificare però. Vedi. Oh. C'è pure il quindicesimo. Ma veramente stiamo a fa... Almeno mi so qualificato. Ma... C'è raga. Cinque partite. Questa è la quinta partita e mi qualifico... Come trenta rimanenti? Dove sono andati gli altri due? Vabbè non facciamo domande. Andiamo avanti. Alla seconda. Al secondo round. Bot Bash. No. Bot Bash è l'ultimo. Cannon Climb. Si capisce. Dai cannoni. Ne sono ottocentomila. La tecnica è passare sempre da qua. Perché vedi il cannone sta qua. Anche da qua. E ma qua qual è la tecnica? Non ci sta la tecnica qua. che ti deve fare il trick che ti fa lanciare il martello. Aspetta adesso mi arrabbico qua. Vado qua. Ok. Vedi il politico. Adesso andiamo alla finale. che secondo me sarà bot bash. Però comunque a me mi stanno sempre capitando gli hacker. Allora praticamente mi stanno sempre capitando gli hacker quando non gioco in partita. Tipo praticamente stamattina mi è capitato un hacker però non stavo facendo il video. C'è come come... Una volta voglio fare un video dove ci sta un hacker Perché è una figata Ah no, non c'è Bot Bash No Non è Bot Bash Come si chiama sta mapa? Non mi ricordo Pint Splash Sì Ah, c'è ancora lo scheletro Che praticamente si chiama in un nome islamico Che ne so No, non laggare Non laggare Chris Non è colpa mia Ma perché lagga? Vedi, non è bella la vita che lagga Io voglio vincere una corona No, avevo fatto un trick Che non l'avevo fatto in video L'avevo fatto solo senza video E va 7.030 coppe 26 corone come sempre Ora Il video è finito ragazzi Ho creato il team Ora tutti ci chiamiamo Chick Tranne Gioesi con Gioele Però mi volevo chiamare N.C. Noi con voi con te Era il team di tutti Vabbè, Pazzurog che ha deciso Il nostro amico Paolo Che è un hacker Anche Ismael GTV è un hacker Lo sapevate? Ah no, l'avevo detto solo adesso Praticamente sono due hacker Eppure fortissimi Pure fortissimi Ovviamente in computer Sono molto più forti Però solo Pazzurog No, anche noi ce l'abbiamo Però Le hack Ce l'hanno solo sul telefono Ok ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Fatemi sapere Se volete altri video di StumbleGuys Oppure di altri videogiochi Che praticamente stiamo portando Solo StumbleGuys Questa cosa non va bene Ovviamente prenderete i provvedimenti Ma all'istante Ci vediamo ad un prossimo video E ciao